Il derby è una partita importante per questa squadra perché ha bisogno di confermare le proprie idee, il proprio modo di giocare e credo che il miglior partita non potesse capitargli per poterlo fare. Ad oggi affronta una squadra che è sopra il livello di punti, quindi vuol dire che numericamente ha fatto qualcosa in più e la Sampdoria dovrà avere la forza di trattarla come tale. Sicuramente è una pagina di storia che non mi sarei aspettato, la vivo con grande serenità perché quando firmai qua a Genova sapevo che il mio ruolo doveva essere quello di guardare le spalle a un grande portiere come Emiliano. Mi spiace che non la possa giocare lui perché è sicuramente un valore aggiunto per la squadra e allo stesso tempo sono felice di poter vestire la maglia dei miei sogni in un momento importante. Credo che i ragazzi debbano avere il tempo di poter crescere e in questo dobbiamo essere bravi magari noi che abbiamo qualche annata calcistica in più sulle spalle a trasmettergli la giusta tranquillità, la giusta serenità per affrontare una partita importante come questa perché è una partita che va giocata con il cuore caldo e con la testa fredda perché sono partite molto caratteriali ma allo stesso tempo devono essere giocate con tanta lucidità. Storicamente la tifoseria è sempre stata una grande spinta per la squadra dovremmo essere bravi noi a raccogliere le energie che i ragazzi dagli spalti ci mandano e tramutarle in una prestazione efficace limitando il più possibile le sbavature e riuscendo a fare una partita importante. Grazie a tutti!